Salve a tutti dalla WebTV Studio, sono Daniele Orecchio, Station Manager e ideatore del progetto Radio 108 Network. Oggi siamo in un posto fighissimo, ma veramente bellissimo, che è il web Roma Web Fest, che poi di repente c'è anche una piccola anteprima del web radio festival, anche perché oltre a radiospeaker.it, che ringraziamo anche per averci invitato, in primis ancora di più anche la dottoressa De Nardis, ideatrice, direttrice artistica del festival, e Massimiliano Gigliucci, direttore generale del festival. Siamo qui insieme a tante bellissime web radio, con la quale ci siamo scambiati già tanti consigli, tante idee fighissime. C'è stato anche un bellissimo workshop questa mattina, tenuto da, per l'appunto, Giorgio De Clesia, che ringrazio ancora. E niente, oggi siamo in un posto bellissimo, perché è il web radio e il Roma Web Fest, e siamo qui al Museo Maxim, via Guido Reni 4, quindi mi raccomando, per chi magari ci seguirà e vedrà questo video fra poco, venite qua, o se no, per chi magari non vedrà dopo questo video, insomma, siamo qui. Lo staff è tutto contentissimo, io sono felicissimo, ripeto, ringrazio tutti quanti, ringrazio il nostro cameraman per l'intervista, e ci vediamo, fate un giretto, noi siamo qua, siamo in diretta su www.radio108network.altervista.org, oppure i nostri social network, Facebook, Twitter, Google+, e a breve anche LinkedIn. Ciao a tutti! Ciao a tutti!